lei si chiama mina è una bellissima gatta come vedete a squama di tartaruga è un bellissimo colore particolare è qua con noi da circa un mese e ha quasi due anni è stata trovata a barolo in un paesino qui vicino da una ragazza è stata ritrovata per strada questa ragazza non poteva tenerla con sé quindi l'ha portata da noi al rifugio e abbiamo cercato di ritrovare i proprietari ma senza successo quindi cerca una famiglia sicuramente attiva ma va anche d'accordo con gli altri gatti quindi comunque può stare tranquillamente con altri animali se vi siete innamorati quindi di questa gattina dolcissima è qua che vi aspetta al rifugio quindi chiamateci e venite a conoscerla bella davvero la nostra mina una super gatta chissà che storia magari si era persa a me piacciono molto i gatti tartaruga e guardate che poi tante sono le leggende che ce lo ricordano ad esempio per gli amici della scozia e dell'irlanda il gatto tartaruga porta fortuna negli stati uniti porta denaro insomma in ogni caso una bella amicia tartaruga come mina vi porterà tanta fortuna e certamente tanto amore per cui non aspettate telefonate subito per adottarla al 335 69 15 64 7 oppure come al solito scrivete a portami a casa chiocciola dalla parte degli animali punto it controlla הדoghi cinque Grazie.